Il podcast di due giorni dopo per parlare del Gran Premio di Portogallo del Moto Mondiale che si è corso domenica in contemporanea o quasi con la Formula 1 che invece ha visto il suo secondo atto stagionale al circuito di Imola per il Gran Premio dell'Emilia-Romagna di cui ho già parlato giusto domenica nel post-gara. Oggi facciamo invece un'analisi un po' più a freddo di quello che è stato il terzo appuntamento per quanto riguarda il Moto Mondiale a partire dalla classe regina alla MotoGP che ha dato ancora una volta tanti spunti di interesse a cominciare dalla terza vittoria consecutiva della Yamaha ufficiale con Quartarò che riesce a giudicarsi la seconda vittoria consecutiva e tentare quello che è a tutti gli effetti un primo tentativo appunto di fuga per la vittoria iridata del campionato 2021. Dopo tre gare certo è ancora tutto da decidere quindi non è ancora detto che questa fuga sia decisiva ma Quartarò ha dato comunque l'idea di essere almeno su questa pista il pilota più dominante, il pilota da battere che infatti nessuno è riuscito appunto a sconfiggere. L'unico che poteva dare un po' di filo da torcia era il pilota francese è stata una Suzuki ma non quella che ci poteva attendere ovvero quella del campionato del mondo in carica Juan Mir ma quella di Alex Rins che ha fatto un gran bel duello con il pilota francese fino a otto giri dal termine. Quando purtroppo incade in una caduta quando era all'inseguimento proprio del pilota francese qui vediamo l'istante finale della caduta dello spagnolo alla curva 5 di Portimao una curva molto stretta verso sinistra il pilota da Suzuki perde la moto. E di fatto dice addio a una speranza di podio che comunque l'avrebbe rilanciato assolutamente delle posizioni che contano anche per quanto riguarda la lotta per il mondiale. Da quel momento in poi la gara della MotoGP per la verità è stato un dominio assoluto di Quartarò che appunto ha di fatto incassato la vittoria in solitaria c'è stata invece una grandissima lotta per quanto riguarda il podio. Un podio che vede una Ducati sul secondo gradino ovvero quella di Francesco Bagnaia che di fatto è guaglia il migliore risultato della carriera e anche di questa stagione perché appunto nella prima gara del Qatar Bagnaia è arrivato terzo al traguardo qui invece parliamo di una seconda posizione. Nella terza invece è l'altra Suzuki quella rimasta in gara quella del campione del mondo in carica Juan Mir che anche sfruttando cadute là davanti importanti come quelle dello stesso Rins ma anche Disarco che fino a quel momento era il leader del campionato mondiale effettivamente mette in cascina un terzo posto molto importante per quello che è sicuramente il campione del mondo più costante degli ultimi anni e per costante intendo un pilota che non vince non ti dà magari quell'acuto incredibile come magari poteva darti Quartarò o comunque lo stesso Vinales ma è un pilota che è sempre lì nelle posizioni che contano che porta sempre punti che sbaglia veramente poco e appunto l'anno scorso ha vinto un titolo in questo modo pur magari non essendo il pilota favoritissimo dell'otto. Questo podio del Gran Pagno di Portogallo è effettivamente un viatico importante per la lima ufficiale perché appunto come dicevo in sede di introduzione del video la casa dei 3 di Aposon ha vinto 3 gare consecutive e di fatto era da tempo in memoria che questa cosa non succedeva e ha vinto con entrambi i piloti prima con Vinales nella prima gara del Qatar e poi due volte con il picco d'Artagnan Fabio Quartarò che qui lo vedete raggiante e felice sul gradino più alto del podio e per lui suona la marsigliese l'inno nazionale francese è un Quartarò che con questa vittoria complice anche la caduta di Sarko come vediamo dalla classifica del campionato mondiale è già in primissima posizione con 15 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia su Ducati Ufficiale che con questo secondo podio in 3 gare conquista un'ottima seconda posizione certo fare bilanci subito su 3 gare è effettivamente abbastanza poco 15 punti in realtà sono facilmente recuperabili con 1-0 ecco perché ho detto che Fabio Quartarò sta provando a fuggire ed è assolutamente ben lontano da riuscirci quello che salta appunto all'occhio è la maniera di caduta da davanti importanti appunto abbiamo detto Rins abbiamo detto anche Sarko abbiamo detto anche Jack Miller che comunque doveva essere uno dei piloti di punta della Ducati Ufficiale e invece deve ancora una volta soccombere a Francesco Bagnaia che fa un ottimo secondo posto meritato duellato soprattutto in sofferenza nel finale di gara quando di fatto le sue gomme andavano via via scemando ed è appunto riuscito a battere uno Juan Mir che stava attentando alla seconda posizione gli altri piazzamenti così andiamo a completare la top 10 quarto Franco Morbidelli un Franco Morbidelli che sta guidando una moto di fatto non sua è quella dell'anno scorso che di fatto è definibile una moto clienti in tutto e per tutto a differenza magari degli altri tre piloti Yamaha che hanno concessioni ufficiali Morbidelli sta di fatto guidando una moto inferiore considerato che appunto i concorrenti sono ovviamente evoluti mentre lui no e un quarto posto di Franco Morbidelli in queste condizioni è assolutamente di un peso specifico notevole e quindi ottima prestazione per il pilota italo-brasiliano quinto è Brad Binder che fa redivivere se così possiamo dire la KTM che nelle prime gare ha fatto obiettivamente pietà con le moto ufficiali dove ci si aspettava Miguel Oliveira altra caduta importante anche oggi qui a Portimao ci è arrivato il sudafricano a portare una straordinaria top 5 per la KTM ufficiale così come è straordinario il sesto posto di Aleix Spargaro con l'apriglia sicuramente più competitiva è il pilota di punta della scuderia che fu di Fausto Gresini da diversi anni ed è effettivamente frutto del duro lavoro questo sesto posto che man mano migliora ai risultati di una moto che era entrata qualche anno fa in MotoGP con prestazioni veramente inguardabili con al seguito mi ricordo i fratelli Laverti ma anche Marco Melandri che appunto recitò la parte dell'ombra del pilota che fu Aleix Spargaro invece è un pilota molto quadrato e chissà come il contributo di Andrea Dovizioso che ha fatto ripetuti test con l'apriglia e ne ha in programma anche altri potrà migliorare la musculeria di Noale magari per una clamorosa top 5 se non chissà magari dei sogni più proibiti e perversi magari anche un podio proseguiamo nella nostra top 10 con un altro risultato da tenere assolutamente d'occhio e di cui bisogna sicuramente fare una menzione il settimo posto di Mark Marquez è a sua volta un risultato straordinario perché Mark Marquez era effettivamente a rientro era uno degli altri temi fondamentali di questa gara di Portimao è rientrato facendo un tempo strepitoso per le potenzialità del pilota in qualificazione con un sesto posto Marquez qui ha corso neanche al 50% probabilmente molto molto meno e già trovarsi in seconda fila in qualificazione era già un passo incredibile considerato che appunto sono due giri secchi e poco più farne 25 in gara era un altro discorso Marquez pur soffrendo è riuscito ad arrivare al traguardo con una settima posizione comunque molto importante per un'onda che comunque nonostante un Marquez al 30% e tutto il contesto del circuito di Portimao di fatto si lecca le ferite e raccoglie le briciole vero abbiamo anche altre onde in zona punti per esempio il fratello Alex Marquez che comunque fa la prima gara della stagione in zona punti ottavo nono è Enea Basterini che ancora una volta con lo Ducati del team Avintia fa delle robe molto interessanti questa addirittura è una posizione di rimonta per il best di Rimini che prima parte in fondo partiva di fatto diciottesimo se non sbaglio in qualificazione e riesce un po' sfruttando le cadute degli altri davanti un po' con il suo passo gara che comunque era molto interessante ad arrivare nono battendo ancora una volta piloti molto più blasonati di lui al traguardo e chiude la top 10 la terza onda Takahaki Nakagami che appunto porta a casa la prima zona punti di fatto della stagione con un decimo posto ripeto la onda qui raccoglie le briciole ma comunque qualcosa si vede in più eccezione fatta per Puliscio Spargarò che si è ritirato per problemi tecnici gli altri italiani è giusto a completare la graduatoria abbiamo parlato degli italiani che sono andati in zona punti facciamo una menzione molto speciale per Lorenzo Salvadori che alla sesta gara di fatto in MotoGP perché è arrivato l'anno scorso nelle ultime tre gare del campionato conquiste i primi punti della carriera di MotoGP con un quattordicesimo posto molto importante per di fatto un ragazzo che fa il collaudatore in pista letteralmente e non ha al momento molte velleità di ambire a posizioni diverse da questo la zona punti può essere un obiettivo massimo raggiungibile e già arrivarci alla terza gara è assolutamente molto positivo per Lorenzo Salvadori a cui auguro di continuare su questo ritmo dodicesimo è il fratellastro di Valentino Rossi, Luca Marini che comunque partiva davanti a Nea Bassadini e anche stavolta è riuscito a prenderle chiudono di fatto l'ordine degli italiani lo stesso Danilo Petrucci che finisce tredicesimo Petrucci sta facendo una stagione in realtà abbastanza disastrosa per i mezzi che ha e chiude Valentino Rossi che di fatto è caduto si ritira ma è inquadrato il pilota marchigiano inquadrato soltanto quando è baltato per le terre significato che la gara di Valentino Rossi era assolutamente anonima se non peggio per quanto riguarda le premiazioni diamo un merito al rider del giorno e il rider del giorno secondo me non può che essere Aleix Spargerow come ho detto prima l'Apriglia sta facendo dei passi da gigante assolutamente concreti assolutamente importanti e il sesto posto è il risultato più sorprendente della gara che vediamo oggi da un certo punto di vista anche il settimo di Marquez lo è, viste le condizioni ma per una volta è giusto premiare un pilota che ha sempre lavorato ha sempre fatto del sacrificio il suo campionato e di fatto porta l'Apriglia al miglior risultato in questa MotoGP moderna con una incredibile sesta posizione la delusione del giorno in realtà lo vediamo nel pilota che è terzo in classifica generale che non ho ancora nominato ed è Maverick Vignales Maverick Vignales che già ha dimostrato di non essere il pilota da prime posizioni in Qatar ma ha dimostrato di essere un pilota qui a Portimao da retrovie perché in qualificazione è partito dodicesimo per gran parte della gara era addirittura ultimo complice appunto un problema alla partenza e anche qualche errore qua e là alla fine era Cimbalo all'undicesimo posto che di fatto fa tornare Vignales sulla terra il problema è che non è una cosa tanto abituale per gli spettatori vedere Vignales costante anzi è l'abitudine vedere il contrario e Vignales ancora una volta ha dimostrato di essere uno dei piloti più incostanti del globo terraqueo se si parla di motociclismo perché così come in Catarti ha fatto primo dando la sensazione di essere un pilota quadrato tecnicamente qui in Portogallo fa undicesimo facendo una prestazione veramente ignobile e di fatto quasi abdicando alle posizioni che contano e di fatto Vignales dopo tre gare scrive già meno 20 dal suo compagno di squadra Fabio Quartararo che sembra già molto più a suo agio sulla stessa moto perché appunto ricordiamo che entrambi sono sulla Yamaha ufficiale la MotoGP comunque tornerà in Spagna per il Gran Premio di Rez della Frontera per la seconda gara europea e anche lì ovviamente ci sarà il recent podcast dedicato stesso discorso vale per Moto2 e Moto3 che hanno ancora una volta dato spettacolo e dato ancora una volta spunti di interesse e per la Moto2 lo spunto di interesse principale è questa immagine che vedete questa è la caduta di Sam Laws una caduta molto brutta causata da un high side letteralmente alla prima curva la gara del campione inglese dura effettivamente pochissimo una curva nemmeno high side in esterna molto pericoloso lo relega di fatto al di fuori della gara e dunque c'è festa per gli altri che si potevano giocare la nuova leadership del campionato alla fine a spuntarla è uno dei miei pupilli in generale del motociclismo categoria prototipi ed è Raul Fernandez che su KTMA io di fatto sigilla la prima vittoria in carriera di Moto2 alla terza gara segno che comunque il team finlandese ha effettivamente fatto bene a investire su un pilota che ha fin dalla seconda gara ha dimostrato di essere un pilota quadrato un pilota da prime cinque posizioni con costanza e qui addirittura ha un qualcosa di più è un podio comunque molto interessante quello della Moto2 perché è vero vince Raul Fernandez e per lui suona la marcia reale in un suonale spagnolo è doppietta spagnola in realtà perché c'è il primo podio della nuova Bosco Scuro con Aaron Canett altro pilota molto talentuoso in Moto2 ha fatto un anno di apprendistato l'anno scorso vincendo il titolo di rookie dell'anno e qui alla terza gara di sezione fa podio ma terzo è il nuovo leader del mondiale ovvero Remy Garner il compagno di squadra di Raul Fernandez che anche qui si è dimostrato di essere un pilota molto costante nelle prime due gare ha fatto secondo complice un loss semi-ingiocabile qui fa terzo vero perde sia da Canett ma soprattutto da Raul Fernandez il suo compagno di squadra ma comunque va a Erez della Frontera all'Australiano come primo pilota del Campeonato del Mondo per quanto evidentemente la classifica Moto2 sia molto tirata perché vediamo Garner a 56 punti Fernandez a 52 Lowe's a 50 è indubitabilmente chiaro che potrebbero essere questi tre i piloti a giocarsi il titolo del mondo con magari qualche inserimento qua e là di qualche outsider in questo caso era Canett io mi auguro anche degli italiani in particolare Marco Bezzecchi che qui in Moto2 ha fatto sesto gli altri risultati Joe Roberts il miglior risultato della carriera in questa sezione in Moto2 con un straordinario quarto posto per il pilota statunitense quinto è l'altro Fernandez Augusto che con appunto la stessa moto di Lowe's comunque si riscatta e sta trovando anche lui la quadra Augusto Fernandez un pilota molto sottovalutato anche lui molto interessante sesto abbiamo già detto è Marco Bezzecchi settimo è Ciavivierche ottavo è Hector Garzò sul team Pons HP40 nona posizione è per Cameron Bobbie una delle più piacevoli sorprese secondo me di questa Moto2 è il campione americano superbike in carica e pronte via ha fatto Bulega in zona punti quindi veramente non male per il pilota ovviamente statunitense decima posizione invece per Sir Schroeder pilota esperto tedesco sul team Dynavolt in 3GP tutti gli altri italiani sono fatta per Lorenzo Dallaporta e Lorenzo Baldassare sono finiti di fatto fuori dai punti di fatto perché sono centrati un po' tra di loro ovvero con Bulega e Manzi e poi con anche Iari Montella che è finito veramente per le terre in un incidente veramente veramente molto brutto li rivedremo comunque tutti a RS della frontiera per la quarta gara stagionale del Mondiale Moto2 chiudiamo il racing podcast della moto mondiale con la Moto3 e anche qui in Moto3 abbiamo un'altra conferma quella di Pedro Acosta che vince in un modo diverso rispetto alla straordinaria impresa che ha fatto nella gara scorsa in Qatar dalla gara scorsa in Qatar abbiamo visto quanto questo pilota sia veramente forte e abbia i crismi del fenomeno vincere dalla pitlane il Moto3 è una cosa che non era mai successa prima d'ora qui Acosta la vince di fatto in volata facendo una gara molto sorgnona seppur rimanendo nel gruppo di testa non ha mai tirato dall'inizio ha sempre lasciato Dernis Foggia tirare la gara al posto suo e al momento giusto ha tirato la zampata nell'ultimo settore il piatto spagnolo per aggiudicarsi la seconda gara consecutiva e di fatto concedersi l'uso di essere il leader in questo stato del Mondiale Moto3 mai nessuno come Pedro Acosta è partito così bene in Moto3 perché ricordiamo che Acosta ha vinto due volte e nella gara che non ha vinto è arrivato secondo per un'incollatura il podio comunque lo completano due italiani in particolare il Dernis Foggia di qui sopra che appunto ha condotto la gara dall'inizio alla fine ma non ha vinto la gara è arrivato secondo e terzo è Andrea Minio uno dei piloti più esperti della Moto3 che ogni tanto riesce a fare delle buone gare e fare in questo caso un buonissimo terzo posto per Pedro Acosta non solo c'è la leadership del Mondiale ma suona la marcia reale sembra qui invece un dominio incontrastato perché guardate il secondo posto del Mondiale lo occupa Haume Masia a meno 31 da questo fenomeno chiamato Pedro Acosta che veramente può essere considerato uno dei nuovi crack di questa Moto3 il podio l'abbiamo detto quindi completato con Foggia e Migno quarta posizione è per Ayumu Sasaki con la terza KTM competitiva qui parliamo invece di Red Bull KTM Tech 3 quinto è Gabriel Rodrigo per il team Grisini sesto è Nicolo Antonelli un altro dei piloti esperti che da una vita in Moto3 e comunque ha fatto incredibilmente una gara costante a punti ma ovviamente in questo caso non sul podio settimo è Romano Fenati altro italiano esperto di Moto3 cosa che va molto in controtendenza con le altre nazioni vedi in particolare la Spagna che hanno piloti molto giovani e anche molto bravi ottavo è Sergio Garzia con la prima delle due Gas Gas nono è la Roma Magia di qui sopra che conferma il realizzato del Qatar 2 e anche lui comunque riesce a confermarsi in qualche modo essendo un pilota molto meno costante di altri e chiude la top 10 Ryusei Yamanaka con la KTM del team Car Pruster gli altri italiani in zona punti abbiamo Stefano Nepa undicesimo tutti gli altri sono finiti fuori dai punti parliamo in questo caso di Riccardo Rossi quindi zero punti per il pilota genovese che finisce diciannovesimo tutte queste categorie ripeto torneranno in Spagna per il Gran Premio di Erez e dunque noi possiamo concludere qui il nostro Racing Podcast vi lascio con il podio della MotoGP con Quartarone con una volta vincitore davanti a Bagnagna e a Mir fatemi sapere cosa ne pensate di questo post gara seppure uscito due giorni dopo il prossimo appuntamento sul canale sportivo sarà di baseball e sarà il primo maggio arriverà il recap del primo mese di stagione regolare ovvero tutto aprile 2021 per la stagione MLB mentre con il Racing Podcast ci ritroveremo il 2 di maggio sempre per quanto riguarda il Gran Premio di Formula 1 che correrà a Portimao quindi dove si è appena concluso la terza gara del mondiale MotoGP e categoria di contorno il saluto da parte di Metal Torgaard ci vediamo al prossimo video il prossimo video